...su questa meravigliosa piazza, sempre e comunque il cuore di Asti, Piazza San Secondo, Banda Amica, secondo appuntamento, ieri c'è stato il precedente, che di fatto ha lanciato quello che capiterà questa sera in questa meravigliosa cornice, peraltro a temperatura gradevole c'è anche un po' di venticello, quindi siamo veramente nelle condizioni ideali. Banda Amica è la dimostrazione di come le bande musicali possono diventare il piacevole accompagnamento di una serata, chi di voi ha presente il logo di Banda Amica avrà notato che là è rappresentata dalla chiocciola delle mail, dalla chiocciola quindi del linguaggio informatico, le bande appartengono ad una fase antica della nostra storia, il fatto che ci sia la chioccioletta delle mail ci porta invece nel cuore della tecnologia contemporanea. La dimostrazione di come passato e presente convivano in maniera totalmente armonica e come la musica, la musica delle bande, la musica dei concerti delle bande rappresentino la piattaforma migliore per organizzare momenti di incontro, momenti di festa, momenti in cui è bello condividere la passione per la musica. La Banda Amica vuole essere tutto questo, Banda Amica parte come iniziativa dell'Ambima, l'associazione nazionale delle bande musicali, con due province che vengono coinvolte, la provincia di Asti e la provincia di Alessandria, di cui Romeo Sannazzaro, presidente della banda Città di Asti Giuseppe Cotti è presidente, quindi vi chiederei un applauso perché questa iniziativa parte dal lavoro di Romeo. Due le bande che si esibiranno questa sera, in realtà questa sera si va anche in provincia di Cuneo, si apre una testa di ponte per arrivare a coinvolgere in Banda Amica, oltre che la provincia di Asti e la provincia di Alessandria, anche la provincia di Cuneo. Saranno in ordine di esecuzione la banda musicale Giuseppe Gabetti della Morra, siamo appunto in provincia di Cuneo con la direzione del maestro Alberto Marchisio, e poi a seguire il corpo bandistico cassinese Francesco Solia, sotto la direzione del maestro Stefano Oddone, peraltro il corpo bandistico cassinese che ha accolto il primo appuntamento di Banda Amica, quando la banda musicale Città di Asti Giuseppe Cotti ha vissuto la sua trasferta a Cassine, in provincia di Alessandria. Non resta che augurarvi buona serata, grazie per essere anche questa sera qui in Piazza San Secondo, buona serata, buon divertimento, vi chiederei un applauso per le due compagini musicali che tra un istante incominceranno la loro esecuzione, il maestro Alberto Marchisio a guidare la banda musicale Giuseppe Gabetti della Morra. Grazie e buona serata. Grazie.